Arista arrosto con l'arancio. Sbuccia un arancio e taglia delle fette di circa un centimetro. Aiutandoti con due bacchette da sushi incidi l'arista facendo delle fette di mezzo centimetro lasciandole attaccate. Posiziona le fette di arancio in mezzo ad ogni fetta. Salvia e rosmarino le appoggio sopra l'arrosto e lo ricompatto usando dello spago da cucina. In questo modo. Teglia e carta da forno. Arrosto. Si regola di sale e di pepe. Olio extravergine di oliva. Un bicchiere di vino bianco. Coprire con alluminio e infornare a 180 gradi. Dopo 40 minuti di cottura con un cucchiaio bagnare la carne con il suo liquido che ha rilasciato e rinfornare per altra mezz'ora senza la carta di alluminio. E buon appetito!